e pure lui, tutti e due, pure Andorio Ciano, erano due grandi virtuosi ed è un piacere venire a San Andorio, paese, patria della Tamuriata, perché sono questi gente che veramente l'hanno portata in tutta regione, a Roma, mi hanno raccontato dei fatti, una roba, se per me non vanno via, non puoi confrere la macchina, cacciavano la padella, ma la dimensionella è via, io venire là facendo cose pazze, questa è la cosa bella, poi pare che quando vanno in suonatura esce tutto un professionista, noi non lo siamo, sì sì, la fronte di voi, due efficienza, è la bella Tamuriata, mettetevi posti, uno all'aio di qua, mettetevi posti in due, sì sì, c'è abitabile invece, lui è di qua, a San Andorio, di fatto chiamiamo, sì sì, c'è a San Andorio, non sbagliato, sì c'è abitabile, quindi la bella Fronia e Livola la fanno loro, Tamuriata, ballate, divertitevi, un applauso al nostro lino, un grande applauso, l'assessore Francesco, un bar che ci ha offerto di poi l'ho, perciò la bella sommato, la corrente, acqua, luce, gas, benzina, bomba mani, e ti capo, però attacchai a loro, un ruolo, attaccato le ruole, si rimolle, voglio dire che c'è là, là, là Sì, capito? All'acqua, all'acqua che rifondano in là 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 All'acqua che rifondano in là Grazie a tutti 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 Grazie a tutti